La pista è oltre il cancello, tutti al cancello! E' l'unico accesso alla pista! Mi è venuta un'idea! Provo a sfondarlo! Spostati Alex! 3-1 a Watcher, ci dirigiamo alla pista! Dov'è il supporto aereo? Ecco il 3-1! Metta con me! I miei di qua! Venite! Il licicottero venico! I miei di qua! Il giallo! Il giallo è aperto! Il giallo è aperto! Laيمica! Ho perduto! Il giallo è un altro helicottero, take-t! Oggi è il giallo è in mangiare! Il giallo è in mangiare! Il giallo è in mangiare il giallo è in mangiare! Il giallo è in mangiare la pista! Vi faccio i nostri spets! E' in mangiare il giallo! Con me! raggiungiamo la pista la vedo fratello il nostro rifugio è sottostatto niente più aerei vi dispiace fratello copritemi dov'è l'ultima armeria? in quell'anga oltre la pista prendiamolo che la fate no va bene l'arrivo c'è di con la barriera avversati scopritemi domani paolo rumore Un'altra cosa. No, no, no! Scopritemi! Tutti dentro! Occupiamo l'hangar! Dentro ci sono ancora dei bastardi! È chiuso! È una botola... Alex, faccio! Ti tiro su io, Alex! Salta! Qui, Alex! Uno, due, tre! Ultima armeria sicura, rifornitevi qui da me! Presto! I rinforzi nemici sono qui! Hanno staccato la corrente! Trappoleranno! Sì! Sì! L'hanno! Ecco 3-1, Viper 1-1 in avvicinamento. Pronti all'azione. Le vostre coordinate... Vai per qui 3-1. È un piacere avervi tra noi. Abbiamo alleati nell'hangar, attaccati da struppe sulla pista. Sparati appena pronti! Ricevuto 3-1, Viper in arrivo, bersagli in pista. Attacco in corso. Conti cari 3-30 in arrivo, fate l'arco. Fuoco, fuoco, fuoco! Distruisciete un'attaccia politica. Oh, è il caso! Comissari, ciao! Aspettate! I missili a disposizione! Aspettio, buon effetto! Buon effetto! È lasciato nemico la giusta, fatelo fuori! E vai il protor! È lasciato nemico in pista, particelo con un missili! Disfruggete col corazzato nemico distrutto. Ora pensiamo a quelli a terra. C'è un nemico con un RBG, colpitelo! Assegno, assegno! Detonazione confermata, proseguo! Si ritirano, possiamo inseguirli o tornare alla base. Tutti i bersagli distrutti, nessun nemico in pista, passo. Ricevuto, Viper 1-1. Grazie del supporto, rimaniamo in contatto. Dipende da me 3-1. Bene, ecco tutto. Allora uccidi russi. Solamente quelli cattivi. È un grande giorno per l'Urziqstan. Grazie. Siamo una bella squadra. Sì, abbiamo più tempo. Ma Barkov reagirà. Anche noi. Alex e le truppe del comandante Karim hanno distrutto la base operativa del generale Barkov, limitando per un po' la forza aerea russa in Urziqstan. Dobbiamo sbrigarci. Sargente Garrick, grazie alle tue informazioni sappiamo che la cellula di Al-Katala che ha attaccato Piccadilly è in una casa nel nord di Londra. Tre squadre dell'SS entreranno a controllare. Se il lupo è in possesso del gas rubato ai russi in Urziqstan, dobbiamo trovarlo. Ed avvisate. Potrebbero essere dei civili. Occhio a dove sparate. Abbiamo i nostri bersagli. Diamoci da fare. Bravo, sei. Procedo al ciattino sul retro. Bravo, sei. Qui al fattore. Stiamo per entrare in piccolo. Ricevuto. Vai alla finestra. Usa la scala. Bravo, sei. Avanziamo all'interno. Sì, non è stata la scala. Gli americani? Ehi, ma dov'è il tè? Oh, cazzo! Libero! Alpha 3, entriamo dalla porta principale. Adunata! Bravo 6, avanziamo al primo piano. Pessaggi dietro la porta. Ossili a terra. Due ostili a terra! Ricevuto. Assicurati che il piano sia scoperto. Primo piano sgombro. Con me. Bravo 6, avanziamo al secondo piano. Fuori dalla porta! Guardate una propegnhe detesa! e uno, è ridotto a costruire. Inceputo, in movimento. Metti in sicurezza questo piano ad un'altra le scale Muoversi, cagette Bravo, sei, avanziamo al terreno piano Ho fatto un giuramento, non tradirò il luto E lascia che sei l'ultima, lo fai un'esperienza Occhio a dove sparate Mani in atto, subito Sta ferma Occupati di loro Fa stare zitto al bambino Occhio a dove sparate